Ciao a tutti siamo qui con Davide Burini di Polini per parlare del motore EP3 è un motore elettrico per i bike ovviamente che è un peso più ma innanzitutto perché pesa solo 2,850 250 watt di potenza e 70 newton metri di coppia quello che però ha di particolare è che è quasi completamente smontabile questo permette di fare manutenzione assistenza ed eventuali riparazioni una particolarità che nasce da una progettazione diversa da un concetto di motore diverso Davide Polini nasce da motori per scooter e moto quanto c'è di questo mondo proprio nella progettazione concettuale di questo motore? Sì allora Polini come ben sapete è sicuramente un'azienda molto ben presente e forte nel settore moto e scooter con lo stesso tipo di ragionamenti con la stessa filosofia ha voluto inserirsi in un mercato per Polini nuovo che è la mobilità elettrica e la creazione da zero di un motore che è EP3 naturalmente tutto quello che è la concezione del motore stesso è molto legata al settore delle moto prima di tutto appunto il fatto di poterlo completamente revisionare ci sono delle possibilità da parte dei dealer che hanno seguito dei corsi all'interno dell'azienda Polini quindi sono diventati Polini official point che possono manutenzionare e possono intervenire a livello di garanzie o anche al di fuori dei periodi di garanzia tutte le parti interne sono replicabili quindi si possono tranquillamente ordinare il rivenditore ufficiale del prodotto Polini può aprire sostituire ed eventualmente riconsegnare in brevissimo tempo senza dover spedire il motore in azienda e senza dover avere tutte queste tempistiche di attesa da parte del cliente il motore è completamente nuovo questa è una concezione anche sportiva perché il motore Polini proprio come per il mondo delle moto in previsione di eventuali manifestazioni il cliente che fa gare o incomincia a presentarsi a manifestazioni anche lontane da casa secondo noi è normale che la settimana prima o qualche giorno prima possa revisionare il proprio motore per essere tranquillo correre e divertirsi in tranquillità altro valore aggiunto che il motore Polini ha rispetto a tanti altri motori sul mercato che in un periodo fuori dalla garanzia quindi quando un motore sarà usato la bicicletta sarà anche essa usata e dovrà essere rivenduta nel momento in cui si dovessero presentare piccole anomalie a livello di un cuscinetto o a livello di una qualsiasi parte il valore della stessa bicicletta sarà sempre molto molto alto perché con pochi euro quindi anche delle spese molto basse si possono andare a intervenire e a sistemare le problematiche che il tempo naturalmente è normale si possano si possano verificare in questo modo il cliente che ha una bicicletta motorizzata Polini sa di avere in mano un prodotto che sicuramente nel periodo lungo e anche di di rivendita è tranquillo e ha un buon valore. Prima di aprirlo parliamo anche di tutto il sistema che è di supporto al motore qui abbiamo un prototipo dual battery addirittura 500 più 500 autonomia la fantascienza? Sì a oggi il cliente il mercato chiede potenza e chiede autonomia autonomia per noi voleva dire riuscire a dare il maggior numero di chilometri che si traducono in maggior minuti di divertimento ore di divertimento proprio per questo abbiamo creato il sistema dual battery sono due batterie della nostra stesso sistema del nostro powertrain sono semplicemente interconnesse tra di loro su dei telai che devono naturalmente essere studiati appositamente non si può far diventare una single battery dual battery ma la possibilità di dialogare tra di loro e darci un'autonomia fino a 400 420 chilometri naturalmente dipende dal dislivello dall'allenamento dello stesso pilota e dal tipo di bicicletta il massimo che riusciamo a raggiungere sono 420 chilometri vuol dire non caricare la bicicletta per un intero weekend certo va bene smontiamolo vediamo come come è fatto e scopriamo un po i segreti davide abbiamo tolto una mezza dozzina di viti a occhio apriamo il primo carter ricordiamo come dicevi che questa è un'operazione che possono fare solo i tecnici formati da voi non fatelo a casa copriamo come è così il primo carter ci dà l'accesso immediato all'ingranaggio principale un paragrasso questo adesso voi lo vedete completamente secco ma nella normalità è lubrificato con il nostro grasso che è un grasso che abbiamo studiato appositamente e che rende il nostro motore anche diverso dagli altri perché durante la vita del motore stesso noi possiamo lubrificare attraverso questa vite il nostro motore che va inserire il grasso esatto andiamo direttamente sui dentini degli ingranaggi in modo che ogni 5 mila chilometri possa il cliente revisionare tranquillamente a casa un pochino inserendo un pochino di olio di grasso e renderlo sempre meno rumoroso è naturale che queste sono parti meccaniche nel tempo possono vivere magari qualche piccola rumorosità quindi questa è un'altra peculiarità del motore polini qua c'è il vero e proprio cuore del sistema quindi sotto questo piccolo paragrasso noi troviamo la scheda elettronica questo è il segreto di come polini ha lavorato non solamente in modo meccanico ma in modo di firmware quindi assicuriamo poco consumo tanta potenza tanta copia quindi questo per noi è la parte principale abbiamo girato sotto sopra il blocco motore per vedere il motore esatto la peculiarità di questo nostro motore è che l'avvolgimento è totalmente made in alzano lombardo quindi in sede polini lo realizziamo completamente noi l'avvolgimento è fatto da noi ed è questo il cuore pulsante che ci dà tanta copia giriamo con un alberino ad altissimi regimi quindi riusciamo a esprimere una copia molto molto alta quindi nel momento in cui dovessimo andare a revisionare il nostro motore o dovessimo controllare se il motore ha dei problemi anche questa parte è ordinabile ma perché la possibilità soprattutto per i clienti è che sperando di no cadano succeda qualcosa il motore viene rigato questi carter questo e questo come nelle moto si possono ordinare per far sì che il motore sia sempre nuovo quindi questo è un'altra caratteristica che si rende diversi perché sono tutti pezzi codificati e ordinabili dai rivenditori polini siamo tornati dall'altro lato abbiamo rivaltato nuovamente il blocco motore per vedere che anche la scheda il cervello è comunque rimovibile sostituibile ispezionabile esattamente questo che è la parte centrale del nostro motore può essere revisionata controllata smontata per eventualmente in caso di rotture di problemi anche al cablaggio sostituire la sola parte di cablaggio perché anche il cablaggio lo si può rimuovere quindi è possibile cambiare solo il cablaggio salvando la propria scheda madre se naturalmente non ha sofferto nessun tipo di problema e anche queste parti sono tutte codificate e ordinabili un risparmio comunque di tempo perché non abbiamo necessità di dove spedire i motori chissà dove e in chissà quante tempi di sì ma anche economico cioè cambiare un cavo rispetto a l'intera schiena assolutamente sì questa è la concezione di polini che ha nel motore elettrico tanto quanto nei propri prodotti moto quindi per noi questo è un valore aggiunto che darà qualcosa di più per scegliere il motore polini va bene abbiamo scoperto praticamente tutto del dell'epitre se qualcuno fosse interessato ad approfondire comunque c'è tutto sul vostro sito che è polini.com sul vostro sito tra l'altro visto che c'è anche l'elenco di tutti i marchi che montano il vostro motore sì esattamente c'è una sezione partner dove oggi potete trovare i costruttori che hanno scelto la motorizzazione polini sono in continuo aumento sono in continua evoluzione si stanno facendo dei grandissimi passi avanti perché questo motore piace molto il passaparola di i clienti che pedalano polini è molto molto buono i costruttori stanno arrivando e si stanno vedendo delle grandissime grandissime novità che arriveranno sul mercato non solamente con alluminio ma naturalmente anche con del carbonio biciclette che non saranno solamente road bike mountain bike finalmente anche delle grandi belle full suspension e perché no delle city bike va bene grazie mille davide speriamo di provare presto una bici con motorizzata polini ciao a tutti